Siamo i gruppi di Giuliano e Damiano, protagonisti di questa serata al Teatro San Rocco di Seregno. Beneficenza è molto importante, cosa va spinto a partecipare? Prima di tutto protagonisti relativamente, ci sono altri personaggi molto più importanti. Cosa ci ha spinto? Nel mio caso l'associazione Vida PD Tinga è una situazione che conosco da un po' di anni. Oggi ha fatto altre serate per la causa, la beneficenza, credo che chi ha la fortuna di riuscire in qualche modo ad avvicinarsi alla sua realizzazione debba in qualche modo restituire alla vita la propria fortuna. Appoggiando situazioni benefiche come questa, perché no? Per il pubblico di Seregno cosa si può aspettare da voi, dalla vostra performance? Penso e suppongo della buona musica. Supponente. Tu hai già molto modo di partecipare a presenziare a serate di questo genere? No, purtroppo no, in questa occasione qui no, purtroppo no. Però è come mi ha chiamato Damiano, Giuliano guarda che c'è questa cosa, ma certo io ero già lì. Sono anzi qua da quando mi ha chiamato, due mesi fa io sto vivendo qua. Sono davvero risposto pronto immediatamente, sì sì ci sono, volentieri. Benvenga la beneficenza, sempre la beneficenza. Diciamo che è un appello magari a persone di Seregno? Accorrete numerosi, adesso non so se alla disponibilità dei biglietti lo prometterà, però comunque bisogna assolutamente appoggiare, dopo essersi documentati, perché ci sono anche molte associazioni che sono dei cagnacci, che fanno delle cagate pazzesche. Potete cercare un attimino di informarsi e poi se secondo voi la causa è da sostenere, sostenetela con tutte le forze che avete. Un'ultima cosa che vi chiedo, un'opinione flash di entrambi, cosa significa avere tante personalità tutte insieme per beneficenza? Quanto è importante il messaggio che possono vi dico a tutte queste persone? Ma penso che, sarò patetico, ma l'unione fa la forza insomma, quindi se il messaggio è condiviso da più parti, da più settori musicali, comico, artistico, teatrale eccetera eccetera, penso che il messaggio arrivi a più persone che magari sono uno appassionato di teatro, l'altro appassionato di comici, l'altro appassionato di musica, comunque arriva a un target più diffuso insomma. Piccole e grandi energie che formano un solo flusso di energia, per insomma costruire determinate cose che permettono un futuro migliore per chi ha più bisogno. Quando ridere fa bene, insomma due serate molto importanti per Seregno, no? Oh sì, Seregno, anzi grazie a Seregno che ha aderito a questa iniziativa, questo tipo di serate sono molto particolari perché sono a sostegno di questo villaggio a Pititinghe, non si sa mai come si pronuncia, questo posto in Brasile dove Enrico Bertolino che è il fondatore ha messo in piedi insieme a Brio questo villaggio per tutela della comunità locale, soprattutto dei bambini, in quanto il primario loro obiettivo è stato quello di dare dei documenti, proprio tipo carta di identità ai bambini, in modo che questi bambini non venissero poi inghiottiti dal turismo pedo-pedo, quindi già dare un documento a uno di quei bambini vuol dire garantirgli una vita tranquilla. Seregno ha aderito a questa cosa, quindi noi siamo fieri dalla Ferrari, siamo venuti a posto in Seregno perché mi sa che faremo anche un circuito qui a Seregno, faremo il circuito del mobiliere, anzi no, perché siamo qui alle porte dell'Abrianza, è giusto che siamo alle porte dell'Abrianza, anzi c'è anche scritto. E che circuito vorresti fare con Seregno, come si potrebbe pensare magari? Facciamo una Seregno, lì sono e andate e ritorno con una curva da tirare il freno a mano, uno spettacolo. Un salato importante, una doggione importante per Seregno, quali sono le aspettative? Beh, le aspettative sono che ci sia tanta gente, visto lo scopo che abbiamo e che è benefico e che è a favore di una onlus, peraltro da cui io faccio parte integrante in quanto l'ho fondata insieme alla mia compagna, là in Brasile, per cui più gente c'è, più per noi e per l'Inter Campus Colombia ci sono delle buone possibilità di portare qualche cosa di concreto, che sia più di un sorriso. Poi mettere insieme anche tanti comici, tanti artisti è una bella cosa. È a loro che va il mio primo ringraziamento, perché sono quelli che quando c'è bisogno ci sono sempre, che non fanno mai discorsi del tipo chi c'è, chi non c'è, quando è, a che ora è, dicono sì. E questo per me è un gran regalo, è un riconoscimento alla mia persona e soprattutto alla nostra amicizia.